Può una vittoria deludere più di una cocente sconfitta? L'equipo Orizzonte Catania, al termine del vittorioso match di campionato giocato sabato scorso contro Pescara, si è ritrovato nell'insolita situazione di chi non può farsi bastare i tre punti, soprattutto in ottica di una crescita graduale e continua. Una gara giocata in costante involuzione rispetto a quanto visto ad inizio marzo nel derby contro Messina, le orizzontine necessitano di una svolta capace di portarle a quel salto di qualità mentale atteso da inizio stagione. L'occasione propizia potrebbe essere rappresentata proprio dalla stessa competizione che, a febbraio, ne aveva evidenziato i limiti, ossia la Coppa Italia giunta nel frattempo alle Final Six. Un mese fa le ragazze di Martina Miceli avevano vissuto un momento del tutto simile in occasione del girone della seconda fase della competizione giocata a Milano, una qualificazione ottenuta per inerzia con l'apice negativo della pessima prova esibita al cospetto della plebiscito Padova, benché ha qualificazione già ottenuta che tanto fece arrabbiare l'allenatrice rossa-azzurra. La delusione per quel girone giocato sotto tono fu poi lenita da un evidente miglioramento di prestazioni in campionato culminate nel derby. Adesso Di Mario e compagni saranno costrette a rifare da capo il percorso fattosi nel frattempo più insidioso. Il quarto di finale di Ostia infatti non ammetterà errori o cali di concentrazione data anche la caratura delle avversarie del Bogliasco. Lo sa bene Martina Miceli che nelle parole della vigilia ha fotografato il momento dell'orizzonte. Sappiamo bene che possiamo essere quelle di un paio di settimane fa contro Messina, ma anche quelle di sabato contro Pescara, spiega la Miceli. Siamo consapevoli che dipende più da noi che dall'avversario che andremo ad affrontare. Di conseguenza sono sicura che le ragazze sappiano bene quanto sia importante questo momento e che si faranno trovare pronte perché sanno che non è possibile permettersi di avere cali di tensione in un'occasione di questo genere. Percorso non semplice, quello che separa l'orizzonte da un eventuale finale. Superato lo scoglio dei quarti, la vincente dello scontro tra le siciliane e le liguri si ritroverebbe davanti la plebiscito Padova nel penultimo atto previsto per venerdì. Un'eventualità che non può non stimolare ulteriormente l'etnea in ottica del risultato e di una crescita prospettiva. Del resto le imprese e le grandi squadre si costruiscono, giocando e possibilmente vincendo. Partite così.